Buona mercoledì 15 febbraio. Ombre sinistre di guerra sembrano attraversare la nostra esistenza. La paura serpeggia e non riusciamo a ricondurla alla realtà dei fatti, sì, perché quelle ombre sinistre di guerra sono una minaccia alla nostra serenità, alla nostra vita comunitaria. I prepotenti della terra si stanno arricchendo oltre misura con il traffico di armi. Ieri si leggeva sulla stampa online che si stanno ammassando truppe e aerei al confine con l'Ucraina. La Norvegia indicava la presenza nel Baltico di mezzi navali con ordini nucleari. La minaccia. La minaccia non solo relativamente alla questione del diritto internazionale che viene sostanzialmente allontanato dall'orizzonte. Non si ha rispetto per i diritti umani perché oggi la guerra è caratterizzata dalla barbarie e dal massacro. Nei racconti dell'antichità si narra di eroi i quali vanno in battaglia, si sfidano, si combattono, sì c'è ferocia, si uccidono, ma il capo rischia, in questo caso i capi non rischiano mai. Si danno da fare per costruire rifugi sicuri, si nascondono, sì, il capo che si nasconde. È una caratteristica che ereditiamo del secolo precedente. Non va in testa alle truppe, manda le truppe al massacro. Questo è un aspetto sconcertante della guerra e questo sconcerto purtroppo trova anche persone che giustificano un'invasione. Qualcuna di queste persone è ovvio scontato che difendono l'aggressione per i loro interessi personali. Di altri ci sorprende un po' perché sono stati protagonisti di un pensiero libertario e improvvisamente è l'incontro tra i conservatori e i progressisti, i quali parteggiano, si parteggiano per quel despota che richiama in sé antichi splendori, di regnanti che hanno fatto dell'oppressione del popolo la cifra della loro modalità di esercizio del potere. Scopriamo che questo signore addirittura si sarebbe costruito una rete ferroviaria privata, con stazioni private, con vagoni cammuffati. Gira in treno perché non si fida e l'abbiamo imparato dal secolo scorso come i despoti, i tiranni, sono sempre paranoici, hanno paura, sono dei codardi, sì sono dei veri codardi, li fanno passare per strateghi e in realtà sono soltanto delle persone mediocre che hanno fatto dell'intrigo che non è una rappresentazione significativa dell'intelligenza. L'intrigo è intriso di cinismo e di stupidità, ma non c'è il coraggio di dirle queste cose. E intanto la guerra rappresenta uno degli elementi che incrementano oltremisura anche la questione dell'inquinamento, la questione climatica, l'aumento dei prezzi, l'inflazione, la speculazione, la speculazione sulla tragedia e il terremoto. Il terremoto che lo diamo per fatto naturale in realtà è la combinazione tra la natura e l'imperizia umana, quell'imperizia coltivata con cinismo per trarre profitto il più possibile elevato, anche dal costruire, dalle abitazioni. Questo è il contesto nel quale stiamo vivendo rispetto al quale dobbiamo trovare la forza di reagire. Non possiamo stare rassegnati, intimoriti, mentre nubi di guerra si addensano all'orizzonte. Dobbiamo scendere in piazza, ne lavorare, non per fare le solite manifestazioni, ma per esprimere con intensità che la nostra postura esistenziale è forgiata per costruire punti, per accogliere la diversità, per vivere intensamente l'incontro con le culture altre rispetto alla nostra. Ma vedo che questo si fa molta fatica a realizzarlo, perché c'è una precondizione che colgo anche nell'incontro esperienziale con le persone. Vi è una cultura dell'autoreferenzialità che trova sfogo di temporanea soddisfazione soltanto in quelli che definiamo disturbi del comportamento, scommettere, giocare per molte ore fuori computer, ubriacarsi, stordirsi con altre sostanze psicoattive. Allora trovi una ragione sufficiente per chiuderti per chiuderti in te stesso, perché hai trovato la scorciatoia per non affrontare la realtà che è fatta, sì è vero, anche di guerra, di minaccia, ma è anche fatta di risorse da tirar fuori, da condividere. Laddove le persone esprimono una sintomatologia che viene definita psichiatrica, e che la professionalità che si coltiva nella tradizionalità della tecno-scienza, ebbene quella professionalità che cosa fa? Va a esplorare i neurotrasmettitori o i traumi vissuti nell'infanzia e nell'adolescenza per giustificare la situazione attuale senza creare una connessione culturale, relazionale. Quella connessione è l'elemento sul quale si costruisce un sistema di cura, che nel qui ed ora quella connessione manifesta una illusione fondativa di queste società, quella dell'individualismo. I stessi diritti sono diritti individuali, non sono diritti ecologici, non sono nella reciprocità e quell'insicurezza che le nuove generazioni incontrano di fronte all'evidenza di stipendi decisamente troppo bassi per poter garantire una vita autosufficiente. E in questo modo interpretano il lavoro come luogo di sfruttamento. Lo è anche, perché quegli stipendi bassi rappresentano un'altra delle sfaccettature di quel cinismo appropriativo delle tirannie della contemporaneità, che si esprimono anche nelle democrazie. Le democrazie quando incontrano una disaffezione al voto, quando oltre il 60% dei cittadini non vanno a votare, allora dovremmo allertarci perché la democrazia non è più una garanzia di rappresentatività del popolo. Perché questo significa democrazia. Nelle diverse forme organizzative la democrazia è rappresentare le infinite diversità presenti in un popolo. altro tema che ci riporta ancora una volta alla dimensione della vita comunitaria, senza la quale non è possibile immaginare la democrazia, non è possibile costruire la pace, non è possibile superare quella sintomatologia fatta di ansia, di attacchi di panico, di chiusure paranoiche nell'introspezionismo, percorsi e viaggi inutili dentro a se stessi, quando gran parte del tempo dovremmo dedicarlo all'incontro con la diversità dell'altro, che è fonte inesauribile di ricchezza. c'è un'altra riflessione che sembra un po' appiccicata a quelle prese che ho appena espresso, ma che mi turba profondamente. La questione delle etichette. Continuano a imperversare nei media affermazioni piuttosto sconcertanti, altro sconcerto. Il bicchiere di vino che fa bene alla salute. I club si indignano, cercano di trovare una espressività, richiamano la tragedia delle famiglie che hanno vissuto il dramma dei problemi alcol correlate, la violenza dentro della famiglia. Ecco questa modalità di rispondere a mio parere è controproducente per un semplice motivo. Perché quel messaggio sacrosanto che esprimono nasconde una cattiva interpretazione dell'ecologia sociale antropo spirituale, del pensiero dell'opera di Udoli che a mio parere non è sufficientemente applicata, laddove afferma che il problema non è l'alcol, il problema è ciò che accade nelle relazioni tra le persone, nelle dinamiche familiari, sì la famiglia può essere risorsa ma anche ostacolo, è contraddizione la famiglia, non dimentichiamocelo mai. Parlano le famiglie, no? Parlano le persone consapevoli di non essere autosufficienti e di comprendere che devono superare l'autoreferenzialità guardando alle relazioni che vanno oltre la famiglia. E richiamare la tragedia vissuta dalle famiglie a causa dell'alcol significa nascondere una verità, quella che turba evidentemente. Non è l'alcol il problema, il problema alcol si riferisce all'ipocrisia di una società, alla svendita tecno-scientifica di una bevanda che viene celebrata come foriera di salute. Non è assolutamente vero, è una balla, punto e basta. E se si pensa che quell'essere foriero di rischio rappresentato dalla bevanda alcolica possa portare a pensare che l'attenzione va rivolta soprattutto alle persone che hanno gravissimi problemi con l'alcol. Non è così, non è così che dobbiamo ragionare. Io credo che in questo momento i club dovrebbero meditare su ciò che sta accadendo e sollecitare il mondo professionale ad esprimersi in verità e in posizione non condizionata dalla filiera produttiva e dovrebbero trovare questa occasione per dire una volta per tutte che l'alcolismo come malattia è solo una costruzione posticcia realizzata da quanti vogliono in tutti i modi salvaguardare la bevanda alcolica. Sì, perché se c'è l'alcolismo c'è anche il bere moderato e questo significa sul piano della cura non concentrarsi sul consumo delle bevande alcoliche ma sulle tematiche di aggressività intra-relazionale tra le relazioni che vengono slatentizzate dall'uso delle bevande alcoliche. La incapacità di vivere le contraddizioni e il conflitto che vengono sostanzialmente rimosse attraverso proprio queste forme di scorciatoia e dobbiamo far sì che queste contraddizioni non siano interpretate solo all'interno della famiglia ma rappresentino null'altro che il riflesso di ciò che accade fuori nelle contraddizioni della società. Sì, perché il disagio spirituale, il disagio mentale è in armonia con il disagio del rapporto che si è costituito tra la vita e la natura da parte di una specie vivente, Homo sapiens, la quale non ha remore rispetto alla sua sete infinita di guadagno e di potere. Ecco che allora la questione delle etichette deve essere spostata dalla realtà dell'alcolismo e deve essere un'occasione nella quale la realtà dell'alcolismo alza la voce e afferma una volta per tutte che appunto non è l'alcol il problema, pur essendo l'alcol un fattore di rischio, ma per l'ordinarietà della vita quotidiana, non per gli alcolisti e che gli alcolisti sono soltanto una forma di stigmatizzazione finalizzata a celebrare l'alcol etilico, una enorme ipocrisia che promuove una droga e ne proibisce altre, soltanto basando questo sulla realtà del profitto. Ecco, questa centralità del profitto del denaro e del potere, dell'autoreferenzialità, della chiusura solipsistica degli esseri umani, tutte queste realtà dovremmo incominciare ad affrontarle con forza e determinazione, con disponibilità alla partecipazione, vera, autentica compassione domani alla scuola, dove affronteremo il tema francescano. Questa sera vedere insieme lo spettacolo di Dario Fo sul sommo giullare San Francesco, riprendere quel messaggio che c'è stato donato 800 anni fa e che è ancora attuale. Entusiasmiamoci, troviamo entusiasmo, sappiamo essere protagonisti e testimoni, anche a partire dalle tragedie delle famiglie, che le crisi sono una opportunità di illuminazione delle nostre esistenze, per far sì che le nostre relazioni migliorino, siano più capaci di cogliere la gioia di vivere, la bellezza di vivere insieme, liberati dalle tante angosce, tante angosce che ci rendono schiavi. Questa è veramente la vera dipendenza che caratterizza il nostro tempo. L'illusione di essere autosufficiente e la paura di non esserlo. La vita comunitaria. Non saranno le pensioni a salvarci, ma la condivisione del bene comune in una prospettiva comunitaria nella quale superiamo questa imposta illusione del vivere autoreferenzialmente, nell'autosufficienza e nella indipendenza. Solo nella interdipendenza supereremo la nostra schiavitù e saremo autenticamente liberi nella relazione. Sono considerazioni, come vedete, abbastanza confuse, frammentarie, brandelli di pensieri che nascono dalla lettura della cronaca tragica della guerra, dalla scemenza umana e dalla ipocrisia umana quando si appoggia alla scienza per affermare cose indecenti, come l'affermazione che il bicchiere di vino fa bene alla salute. Oppure anche pensiero che nasce dalla esperienza quotidiana. Sentirsi sicuri nella vita comunitaria, non sarai mai solo, non sarai mai messo ai margini, non sarai mai scartato. Entreremo in questo modo in una economia dell'inclusione, non dello scarto. Vedete, sono tanti gli argomenti che siamo chiamati a identificare e poi tradurre. In realtà pratiche di vita vissute intensamente nella relazione. Penso alle tante angosce vissute da tante persone che vivono la quotidianità nella solitudine. Apriamo le porte, le finestre, usciamo, troviamoci in luoghi pubblici a condividere la bellezza delle nostre risorse messe a disposizione del bene comune che non appartiene a qualcuno, non è proprietà di nessuno, va semplicemente coltivato e tutelato. Buona giornata a tutti.